Di fronte alla crisi scatenata dalla pandemia, l'Europa deve dare una risposta comune. Durante i primi dieci mesi di emergenza, su questo fronte sono stati fatti passi avanti, ma bisogna proseguire il lavoro perché il 2021 sarà altrettanto terribile. Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è molto chiaro, intervenendo al webinar Nuovo bilancio e Next Generation EU, un piano europeo per far ripartire l'Italia, evento organizzato dall'ufficio del Parlamento europeo in Italia. La strada imboccata è giusta, dice, ma non possiamo allentare la nostra attenzione. Non potevamo non avere risposte comuni, non potevamo non lavorare per l'Europa, non solo per i singoli paesi, ma per tutta l'Europa. Non potevamo non rimettere in discussione alcuni paradigmi. Tra le risposte arrivate, Sassoli cita il Fondo Sciur. Una grandissima novità, e ieri mi ha fatto molto piacere parlarne con la Presidente Lagarde, perché uno strumento lo abbiamo inventato di sana pianta, come sostenere le nostre casse integrazioni, i nostri istituti. L'abbiamo fatto con quello che fino all'inizio di marzo era un tabù, con i bond, andando sui mercati finanziari. Dunque, sono state fatte cose importanti, ma bisogna procedere nella stessa direzione, senza paura dei tabù, insiste. Attenzione, non parliamo dell'autonomia e dell'indipendenza della Banca Centrale Europea, ma parliamo di meccanismi che dovranno essere inventati perché mutualizzare, ad esempio, le spese che tutti i paesi stanno sostenendo con grande fatica, beh, questo non può essere considerato un tabù. E mi dispiace vedere tanti sacerdoti dell'ortodossia finanziaria alzare il ditino, perché se avessimo dato retta a loro, a marzo non avremmo iniziato una nuova storia dell'Europa. Conclude il Presidente dell'Europarlamento. Forse dopo dieci mesi possiamo essere soddisfatti che la strada imboccata possa essere quella giusta, nello stesso tempo però dobbiamo non allentare la tensione e la nostra concentrazione. Fare in modo che quel spirito di fiducia nei confronti dell'Europa, che è ricominciata a crescere nelle nostre società, non si affievolisca.